Si è fatta tanto attendere e con vari danni e disagi la pioggia è arrivata su Roma. Si sono vissuti attimi di paura e tensione a causa del violento temporale che ieri si è abbattuto sulla capitale. Tanta pioggia e forti folate di vento hanno interessato diverse zone di Roma in un lasso di tempo brevissimo. Una notte romana, quella tra giovedì e venerdì, come non si vedeva da tanto ormai. Sono arrivate varie segnalazioni in diverse strutture dei vigili del fuoco e della protezione civile da parte di chi ha chiesto aiuto vedendo uno scenario quasi apocalittico. In quel poco più di un'ora la tempesta ha causato danni e disagi su strade e abitazioni, danni che hanno richiesto ben 350 interventi, di cui 50 per incidenti e circa 60 per rami e alberi caduti. In più si aggiungono vari allagamenti in tutta la città. Dal luna di notte fulmini e tuoni hanno svegliato chi già era tra le braccia di Morfeo. Come si legge anche sui social, la calma sembra essere tornata attorno alle 2 e 5.